Io sono Rosario Pantaneo, sono un cittadino di Baggio, sono nato a Baggio, vivo a Baggio e sono un appassionato di musica e siccome a Baggio abbiamo tanti talenti e abbiamo anche un bellissimo teatro. Abbiamo Spazio Teatro 89 che ospita questa manifestazione che si chiama Siamo venuti a cantar Baggio. In ogni serata avremo tre artisti o gruppi musicali con suoni jazz, suoni di musica popolare, suoni di musica rock che racconteranno a modo loro che cosa vuol dire fare musica, essere artisti, avere la passione della musica in un quartiere come Baggio. Io sono nata autrice in minanese e faccio un lavoro molto particolare perché penso che il retto minanese sia una ricchezza che va assolutamente non solo preservata ma rimbata, usata, portata avanti e io cerco il mio piccolo di farlo. Mi sembra che questo tema dell'agricoltura, Spazio Teatro 89, mi aiuta proprio a fare un proteggamento tra ciò che è fare cultura e promuovere cultura e fare l'azione che è proprio costruire degli spazi. Sono Federico Pugliano, responsabile di Spazio Teatro 89 di Milano. Il nostro teatro si trova ad organizzare ogni anno moltissime rassegne di musica classica, di teatro. Abbiamo adesso finito una rassegna di musica blues, partiremo a breve con una rassegna di musica irlandese. Insomma, questa è l'inesima iniziativa perché crediamo che sia giusto dare la possibilità a tutti, anche le persone della periferia, di avere sotto casa un teatro e un luogo di cultura senza obbligatoriamente venire in centro a Milano. A W G I O M I O B A G I O B A B A W G I O M I O B A D G I O M I O B A B A B A B A